Con la solenne celebrazione eucaristica domenica 21 ottobre in occasione del centenario della comunità parrocchiale si è aperta la visita pastorale del Vescovo Armando nella parrocchia di San Giovanni Apostolo a Marotta. La visita pastorale, esordito il Vescovo rivolgendosi alla comunità e al parroco Don Enrico Secchiaroli, non è un controllo ma una visita di fraternità, di condivisione e un prendersi cura a vicenda. Undici anni fa sono entrato in questa chiesa nel mio ingresso ufficiale come Vescovo della Diocese e ricordo ancora un ragazzo che mi chiese cos'è il Vescovo e io fresco di nomina, avevo risposto che il Vescovo è colui che si prende a cuore, che si fidanza e si sposa con la comunità cristiana che gli viene affidata. Nell'Omelia il Vescovo ha offerto ai presenti una riflessione sul Vangelo della liturgia domenicale. Chi ha ruoli di responsabilità si deve fare servo perché chi è più grande è colui che ama di più. Gesù prima di morire dà questa evangelizzazione sul servizio in maniera trasparente. Se ti carichi di qualcuno ha proseguito il Vescovo Armando, quel carico diventa vita. Dobbiamo imparare la legge del farsi carico e che cosa significa? Significa accudire, educare i figli, prendersi cura del debole, della persona fragile, del familiare e della nostra comunità. La visita pastorale del Vescovo Armando si concluderà domenica 28 ottobre con la solenne celebrazione eucaristica e il conferimento del Sacramento della Confermazione. Grazie a tutti.